E questa era Clubbusting Kate Bush, la prima scelta della nostra prima ospite di questa nuova stagione, Anna Vardazzi. Buongiorno Anna. Benvenuta. Ciao, buongiorno. Sempre bello ascoltare Kate Bush in generale per quanto mi riguarda, questo brano in particolare con questo andamento ipnotico. Come mai l'hai scelto? Allora l'ho scelto perché è una canzone che io ho scoperto guardando una serie tv, non la conoscevo prima. La serie tv è quella tratta dal racconto dell'ancella di Margaret Atwood e la canzone passa durante una scena mitica che non voglio spoilerare per chi non ha visto la serie o per chi l'ha vista magari può andare a ricercarsi e a riguardarsela per vedere qual è e curiosare, ma è una scena di grande soddisfazione e quindi quando ho bisogno di un po' di carica l'ascolto sempre. Ottimo. Devo dire che Kate Bush sta vivendo una seconda giovinezza musicale praticamente, è stata saccheggiata dalle serie giustamente perché è un tipo di musica particolarmente evocativo e quindi ci sta, insomma sono contenta per lei e per la sua CIA, l'equivalente della CIA diciamo americana. Allora Anna è con noi stamattina per parlare di un progetto che la sta impegnando credo grandemente nell'ultimo anno più o meno se non sbaglio e siamo arrivati al momento alla decima puntata del podcast che ricorda il mio nome, in realtà sono otto puntate diciamo dedicate ognuna ad una donna uccisa e poi due speciali che invece sono un pochino di raccordo con più argomenti ma adesso ne parliamo. Ricorda il mio nome, io mi sono imbattuta devo dire casualmente perché seguo Anna per altri motivi, è già stata anche con noi per dei suoi libri, insomma perché lei è una scrittrice e mi sono imbattuta in questo podcast e mi sono detta vabbè un podcast sui femminicidi, io diciamo ho una grande passione per i podcast crime però qui non si tratta di un podcast crime, è qualcosa di più, è qualcosa di diverso ed è qualcosa di estremamente legato al titolo ovvero ricorda il mio nome. Vuoi dirci tu intanto perché hai scelto questo titolo e com'è nata l'idea del tuo podcast? Allora anch'io come te sono grande appassionata di crime, recentemente di podcast ma in passato cioè io sono cresciuta a puntate di CSI, quando ero ragazzina per un periodo ho anche pensato di fare la criminologa quindi proprio una cosa che mi è sempre piaciuta molto, poi in realtà ho preso altre strade ma quando è emerso questo fenomeno dei podcast crime ho cominciato ad ascoltarmeli veramente tutti e ho un'amica che è l'avvocata Roberta Sandri con cui appunto collaboro per scrivere ricorda il mio nome che è come me appassionata lei in realtà ha un master in criminologia quindi oltre a essere avvocata ha intrapreso poi anche quella strada e all'improvviso ascoltando un podcast ho pensato però nessuno ha mai raccontato i femminicidi cioè per carità ci sono podcast che li affrontano ma con un punto di vista molto diverso da quello che avrei voluto ascoltare io, come hai detto tu si ascolta un po' la vicenda crime, abbiamo questo termine classica cioè la persona viene uccisa, come si scopre chi è stato, cosa succede al processo e stop. Invece io volevo che fosse qualcosa di più che riportasse veramente la narrazione verso la donna protagonista di questa storia perché più che in altri casi di clonaca nera i femminicidi vengono spesso raccontati dal punto di vista di chi ha compiuto il fatto quindi non so negli ultimi tempi si parla sempre di più faccio un esempio noto a tutti di Filippo Turetta e sempre meno di Giulia Cecchettin quindi a meno di non aver letto il libro del padre che è stato contestatissimo di Giulia si sa poco e niente ormai di Filippo Turetta si sa molto e quindi io ho pensato di unire un po' questa chiamiamola moda insomma questo interesse collettivo per le vicende crime per provare a costruire una narrazione diversa intorno ai femminicidi. È un'idea che mi è venuto ormai molto tempo prima di fare il primo episodio, diversi mesi prima, quasi un anno prima, ma ci ho messo veramente tanto a trovare poi il format giusto che secondo me era quello che poteva funzionare e quindi poi la prima puntata in realtà il primo episodio è andato in onda a novembre. Quello che è molto interessante, diciamo il podcast si intitola Ricorda il mio nome, proprio per sottolineare questo focus diciamo sulla vittima, sulla persona, sulla donna che è stata uccisa, quindi sul fatto che è una donna che aveva una storia, che ha una rete di rapporti sociali, che aveva degli interessi, delle passioni, quindi dei sogni, cioè che è una persona insomma, cioè non è un nome e basta. Però un'altra cosa molto interessante secondo me del tuo podcast è quella serie di meccanismi che fanno parte proprio del femminicidio e che molto spesso sono legati al modo in cui invece l'uomo che ha ucciso l'esecutore del femminicidio viene raccontato e anche a volte di come queste persone, questi uomini tentano di trovare una giustificazione, no? Ed è interessante perché ci sono dei pattern che tornano e tu lo sottolinei in modo tale che poi le persone un po' comprendano questo. Mi vuoi raccontare un pochino questo aspetto? Sì, perché questo è qualcosa di cui io per prima mi sono accorta, cominciando comunque a interessarmi, mischiando l'interesse per i casi di cronaca nera al mio percorso femminista, io ho mescolato un po' le due cose e ho cominciato ad accorgermi che giustamente la narrazione che si fa è un po' dell'uomo che ha perso la testa, dell'uomo che aveva dei problemi. In realtà, come dico poi nella sigla, come si tratta di donne qualunque, che quindi potrei essere io, potresti essere tu, potrebbe essere una nostra amica, una nostra sorella, veramente chiunque, anche gli uomini sono uomini qualunque. Quindi la radice è più o meno sempre la stessa. Poi ci può essere un disagio economico, spesso vengono tirate fuori, non so, quando si tratta di un femminicidio di una donna anziana, spesso il poveretto doveva occuparsi della moglie malata. Insomma, si cercano varie giustificazioni. In realtà poi c'è sempre un punto comune e secondo me è giusto spiegare appunto che non si tratta di colpi di testa, perché poi nella maggior parte dei casi gli uomini che vanno a processo e che sono tutti quelli che non si suicidano dopo aver compiuto femminicidio, vengono condannati se non all'ergastolo comunque a 30 anni, perciò spesso si prendono l'aggramante e la premeditazione, non sono affatto raptus, sono purtroppo crimini che vengono pensati, che vengono maturati in un contesto sociale, culturale preciso. E ci sono tutta una serie di motivi ricorrenti che fanno proprio parte dell'idea stessa del femminicidio, cioè il motivo per cui esiste la parola femminicidio è perché ci sono delle connotazioni specifiche, non è solo perché è una donna che viene uccisa, ma è una donna che viene uccisa in quanto donna, e in quanto donna che ha un rapporto di un certo tipo con il proprio omicida, nel quale l'omicida sente che sta avvenendo meno un potere su quella stessa donna, più o meno adesso lo dico velocemente perché ci sono in realtà varie declinazioni di tutto questo, però ecco il senso del potere mi pare che sia abbastanza fondamentale. Il senso del potere e soprattutto della proprietà del possesso, quindi per qualche motivo l'uomo che commette un femminicidio, ma come quello che commette violenza domestica, è convinto di avere il pieno possesso della persona su cui esercita questa violenza, quindi la radice fondamentalmente è sempre questa, che sia la moglie, che sia l'amante, che sia la ex, che sia anche la madre a volte, o anche, cioè questo, c'è un po' l'idea che siano le madri a uccidere i figli perché ai media piace molto raccontare questa storia, in realtà guardando le statistiche la maggior parte dei figlicidi è commessa dai padri, quindi il principio è un po' lo stesso, cioè come la donna è proprietà per questi uomini anche i figli lo sono, e quindi diciamo che l'amatrice è sempre quella, poi può essere magari la ex che se n'è andata e quindi non si accetta una separazione, può essere l'amante che è d'intralcio perché vuole andare a raccontare tutto alla moglie, può essere la moglie che non lo lascia libero di vivere la sua vita con l'amante, insomma ci sono poi varie motivazioni che cercano sempre di esaltare un po' come giustificazione anche per la paura collettiva dell'ammettere la prossima potrei essere io, riconoscendo determinate caratteristiche, quindi c'è sempre una ricerca di una giustificazione, però alla fine purtroppo l'amatrice è la stessa, c'è questo senso di possesso che ti porta a dire beh non fai quello che voglio io, non mi intralci, non mi permetti di vivere come voglio e quindi ti elimino. Quello che poi è anche interessante è come dicevamo anche all'inizio un discorso legato alla narrazione di queste storie, di questi casi e a questo proposito ero andata a cercare perché non me lo ricordo precisamente però è l'avvocata con cui lavori, Roberta Sandri, aveva fatto una serie di post di storie molto interessanti riguardo una serie abbastanza recente che raccontava un caso di cronaca, l'avevo vista ma mi sono completamente dimenticata quale fosse, però il fatto che io fossi andata proprio a cercare il suo parere a seguito del vostro podcast diciamo racconta bene quanto il vostro sguardo sia diciamo a parte interessante ma soprattutto veritiero ecco, cioè scevro di tutta quella serie di pregiudizi che normalmente i media hanno nel raccontare queste storie. Quali sono questi pregiudizi e quali sono quelli che volevi un pochino scardinare? Ma allora innanzitutto come un po' accennavo anche prima diciamo che le persone non hanno un'idea chiara di quello che succede quando una persona che ha compiuto non solo un femminicidio ma banalmente un omicidio, cioè più genericamente un omicidio, cioè quello che avviene a questa persona dopo che è stata trovata. Quindi si sente spesso dire per esempio bisogna aumentare le pene per i femminicidi che non vuol dire niente. La cosa su Bossetti, scusami se ti interrompo era la cosa su Bossetti, avevo un vuoto, non mi ricordavo più. Sì, quella è quella. Quindi dire per esempio bisogna aumentare le pene, cosa che viene anche poi riportata magari dai giornali perché danno parola a persone che non hanno competenze e dicono cose del genere, non ha nessun senso. Quindi secondo me è interessante anche scoprire che quando una persona commette un crimine di questo tipo, viene giudicata, viene processata, si prende il massimo della pena o se non se la prende perché magari ci sono altri motivi, perché proprio spesso i giornali non solo a un certo punto esauriscono l'interesse per quel caso, quindi tu non sai, cioè sai soltanto che Tizio è stato arrestato perché ha ammazzato la moglie per la strada, ma poi hai sentito urlare, ah dovremmo alzare le pene, dovremmo fare qui, dovremmo fare là e poi non sai in realtà che cosa è successo. Quindi noi volevamo chiudere questo cerchio raccontando esattamente quella che è la genesi di una storia di femminicidio, quindi c'è sempre chi era questa persona prima, cioè chi era la protagonista del femminicidio prima, come ha incontrato chi poi l'ha uccisa, quindi che tipo di relazione c'era anche tra i due e poi il dopo, quindi come chi è colpevole viene giudicato perché appunto si pensa che la gente, gli uomini commettano femminicidio perché non ci sono pene, non è assolutamente questo, non è certo la paura o la certezza della pena. Poi bisogna dire anche che non tutte le persone sono competenti in materia perché ovviamente ognuno ha le proprie competenze e io non avrei mai potuto scrivere un podcast del genere da sola perché non ho competenze giuridiche, cioè ora un pochino dopo un anno che ne scrivo qualcosa ho imparato, però senza una persona competente al mio fianco non avrei mai potuto farlo. Quello che poi abbiamo deciso di fare è anche, noi abbiamo anche una newsletter che esce insieme al podcast, cercare di fornire qualche informazione in più a chi vuole capire come funzionano certe dinamiche proprio perché non lo fa nessuno fondamentalmente, forse perché non è quello che interessa, non lo so, però vedo che a chi ci ascolta interessa. In un podcast sarebbe troppo lunga da spiegare, cioè se c'è un processo indiziario per esempio mettersi a spiegare in termini tecnici che cos'è in un podcast diventa complesso, quindi abbiamo pensato alla newsletter anche per dare un supplemento di informazione di questo tipo a chi vuole capire. Leggo qualche titolo di questa newsletter tanto per dare un'idea. Tipologie di omicidio e definizione di consenso di donne di serie B, cosa succede quando scompare una donna, i femminicidi di donne incinta, cioè sono degli approfondimenti che giustamente già voglio dire le puntate sono belle ricche, ecco, per me godibilissime perché insomma è una giusta durata però ecco diventerebbe effettivamente complesso. Per quanto riguarda invece le due puntate extra che sono diciamo le ultime due speciali, tu fai un discorso un pochino più ampio. Perché l'hai aggiunte e che tipo di discorso affronti? Allora io vado molto, sono poco strategica e molto a sentimento, quindi sentivo a un certo punto il bisogno di fare un punto perché ok parlare delle storie di queste donne però magari si può fare anche un discorso, cioè sentivo che dopo otto episodi anche chi ascolta il podcast era più pronto ad affrontare un punto di vista più ampio, esatto, cioè per capire il fenomeno dei femminicidi in maniera molto più ampia. Allora il primo episodio speciale che ho fatto in realtà è sul femminicidio suicidio perché secondo me, cioè ce ne sono tantissimi, no tantissimi, circa il 30% degli uomini che uccidono donne poi si suicida, quindi è comunque un numero importante e noi abbiamo fatto un evento a Prato con un centro antiviolenza, in quell'occasione abbiamo ricordato le donne che sono state uccise a Prato ma erano tutte donne il cui femminicida poi si è suicidato, quindi avrei voluto fare un episodio, però secondo me fare un episodio su un femminicidio suicidio è più complesso, nel senso che ricordi ok la persona che è stata uccisa ma poi non hai tutta la parte di analisi perché ti esaurisce tutto al momento della morte. Quindi quando abbiamo fatto questo evento sono rimasta un po' dispiaciuta diciamo ma nei confronti di me stessa perché dicevo sì però queste donne non avranno mai spazio e quindi ci ho pensato un po' e ho deciso di fare questo episodio, ne ho ricordate soltanto tre ovviamente perché di più era un po' complesso, sono già tante in un solo episodio e ho cercato di spiegare che cosa c'è dietro al fenomeno del femminicidio e il suicidio che è completamente diverso rispetto al femminicidio in sé in cui poi non si uccide l'uomo. L'altro invece è quasi storico direi. Esatto, l'altro è veramente la genesi, cioè il femminicidio c'è sempre stato, basta pensare alla caccia alle streghe, certo. Non erano altro che femminicidi, però non si è mai chiamato col suo nome fino agli anni 90 e quando una studiosa analizzando il caso dei femminicidi di Ciudad Juarez ha coniato il termine Marcella Lagarde, proprio perché sta a indicare non la morte di una donna che in spagnolo avevano chiamato femminicidio in opposizione a omicidio, ma proprio l'incisione di una donna perché donna, quindi in un contesto ben diverso. Cioè se io vado a fare una rapina in banca e sparo a tutti i presenti, ammazzo tre donne tra questi, ovviamente non sto commettendo tre femminicidi. Certo. Se io scelgo una donna, perché donna? E questa è una cosa su cui molte persone si confondono in un senso e nell'altro, quindi mi piaceva fare un po' una... Chiarezza, sì sì. Esatto, chiarezza e raccontare un po' come è nato il fenomeno, come è nato lo studio del fenomeno. E poi c'è il movimento non una di meno anche, insomma. Esatto. Quindi anche un po' una contestualizzazione delle risposte anche del femminismo rispetto al fenomeno, ma in generale ecco a come... sempre quello che diciamo all'inizio, no? Questo rapporto di potere tra uomo e donna e insomma in generale la parliarcata e società... Sì, perché poi non una di meno in realtà diventa... cioè nasce come movimento in risposta all'ennesimo femminicidio in Argentina, ma poi si espande come movimento contro la violenza sulle donne. Certo. Quindi molto più ampio. Stiamo parlando con Anna Bardazzi del podcast... Anche lui, perché c'è Giovanni qua. Salve. Il podcast è Ricorda il mio nome, storia di femminicidi. Lo trovate sia su Spotify ma anche su YouTube e la domanda che voglio farti è proprio su quello che succede dopo la messa in, tra virgolette, onda, quando spingi il tasto pubblica. Vedo che ci sono eventi, appunto hai citato l'evento di Prato. Cosa succede dopo? O meglio, cosa ricevi dopo la pubblicazione di queste puntate? Cioè che riscontro hai? Anche come... Anche forse con le persone che conoscevano le donne. Allora, questo è un podcast che nasce indipendente, quindi io ho deciso di... mi sentivo di fare questa cosa e quindi l'ho fatta e l'ho messa online, perché il mondo dei podcast offre questa possibilità molto più di altri campi, soprattutto l'editoria classica. E sono stata a vedere quello che succedeva e fin da subito devo dire che c'è stata una risposta molto, molto positiva. Quindi ho cominciato da subito sia a vedere che gli ascolti andavano molto bene, ma a avere molti feedback. Non sono mai stata contattata direttamente da qualcuno che conosceva le donne di cui ho parlato. Non è ancora successo, ma bisogna dire che non sempre le persone che sono state protagoniste di queste vicende, quindi le madri, le figlie, le sorelle in particolare, anche i padri spesso, hanno voglia di affrontare... c'è chi lo fa, però lo fa con i propri tempi, i propri modi. Sono stata in contatto, ma perché le ho contattate io con alcune persone, parenti, per esempio con la mamma di Laura Zizzo, quindi Giovanna Zizzo, che veramente fa tantissimo per ricordare la figlia e per fare anche sensibilizzazione all'interno delle scuole, che mi ha ringraziata molto. Poi a volte contatto magari gli avvocati per avere le sentenze, quindi mi riferiscono poi che la famiglia ha detto questo e quest'altro, però non è mai venuto qualcuno direttamente da me. Quindi non posso sapere in realtà se hanno ascoltato o non hanno ascoltato. Le persone da cui ho avuto un feedback che erano legate alle persone di cui ho parlato mi hanno sempre dato feedback positivi. Poi è una cosa talmente personale che è veramente difficile prevedere come andrà. Mi dispiace molto che le persone, spesso lo leggono online, invece abbiano le idee così chiare su come ci si dovrebbe comportare quando ci viene ammazzata una figlia, una sorella, una madre, perché credo che non sia possibile prevedere la reazione che avremo. Qui mi riferisco nuovamente a Gino Cecchettin e a sua figlia Elena che poi si sono impegnati comunque per mantenere viva l'attenzione e ricordo anche di Giulia e hanno ricevuto molte molte critiche. Quando è un lavoro che fanno moltissimi genitori, moltissime sorelle, solo che hanno meno visibilità perché ci sono casi che ne hanno di più e altri invece che non si ricorda nessuno. Anche per questo io scelgo storie che sono un po' meno mediatizzate. Diciamo che nella questione di Giulia Cecchettin c'è anche una strumentalizzazione politica niente male, quindi questo devo dire che concorre anche a concentrare i giudizi su delle persone che vengono facilmente poi ascritte a una parte e all'altra politica, quando poi in questo caso la politica non c'entra. Cioè nel senso c'entra un modo di vedere le cose che fa parte della politica. Certo, da quel punto di vista c'entra assolutamente sì, però non può essere un baluardo da questo punto di vista. No, no, certo. Il fatto è che alcuni casi vengono mediatizzati di più anche per altri motivi. Cioè quando la vittima è la vittima perfetta, quindi inappuntabile, la figlia di tutti noi ovviamente crea più morbosità, crea più angoscia. Giulia Cecchettin era veramente la ragazza ideale, quindi la figlia che tutti noi vorremmo. Per questo ha scioccato così tanto e hanno cavalcato tantissimo l'onda del sentimento comune. Quando muore la sex worker ammazzata da un cliente ovviamente, allora sto per dire una cosa terribile, però il pensiero comune è che l'è cercata. A me non succederebbe mai, a mia figlia non succederebbe mai perché non andiamo ad appartarci coi clienti per 20 euro sotto un ponte. E questo racconta noi. Sì, racconta tanto degli occhi in cui guardiamo queste cose, certo. Un'ultima domanda a proposito del tuo modo diciamo di approcciarti anche a queste storie. Immagino che non sia facile anche dal punto di vista psicologico, diciamo, raccontare e più che altro approfondire, conoscere, andare a cercare e anche in fondo forse alla fine di una puntata dopo un mese di studio o quanto insomma anche di più, è come se avessi un po' familiarizzato, legato con queste donne. Come è stato, come affrontare diciamo psicologicamente questo lavoro e qual è stata, se c'è stata una storia che ti ha maggiormente provata o comunque che, o forse che ti ha sorpresa magari? Allora, diciamo che i primi mesi sono stati veramente molto molto difficili. Poi tornando sempre sullo stesso argomento, ahimè, il primo episodio è uscito il 24 novembre dell'anno scorso. Quindi io stavo ultimando veramente, venivo da un periodo di studio molto intenso in quei giorni, nei giorni in cui poi è scomparsa Giulia Cecchettin, è stata ritrovata eccetera. Quindi è stato un periodo veramente molto complicato perché per le prime storie, quindi la prima storia in assoluto che ho raccontato è quella di Anastasia Shakurava, mi immergevo completamente, cioè che sono arrivata a trovare l'account Instagram della sua amica di infanzia, cioè veramente a fare una ricerca al dettaglio per capire meglio queste persone che mi prendeva tantissimo tempo, ma soprattutto tantissima energia anche a livello mentale, emotivo, cioè ero veramente a terra. Perché comunque quando ti accorgi, cioè quando diventa tridimensionale una persona che era assolutamente il mio obiettivo, però farlo con quel livello di profondità ti trascina via, cioè io ero in uno stato veramente difficile e complesso. Poi è stato così per le prime storie, poi piano piano ho cercato di prendere un po' di distacco, cioè sono andata avanti in maniera più tecnica diciamo, più pragmatica anche, quindi sapevo già cosa dovevo andare a cercare, cosa volevo scrivere, come lo dovevo scrivere, quindi è stato tutto molto meno difficile emotivamente anche se lo è sempre. Lo è sempre perché è quello che dico ogni volta, cioè ogni volta che incontro una storia e che inizio a scriverla e poi la finisco, dico, cioè mi sembra che sia quella più difficile su cui ho lavorato, poi quella successiva mi fa la stessa impressione, perché comunque sono talmente diverse tra loro che sono tutte incredibili e soprattutto poi mi affeziono a ognuna di queste donne. Esatto, io questo intendevo, sicuramente c'è questa componente emotiva, no? Sì, ma era quello che volevo ottenere, quindi se lo tengo su di me è il primo segno che sto facendo un buon lavoro. Ma guarda, io ho finito più di una puntata in lacrime, quindi direi che, a parte il discorso della storia in sé, che è una storia dolorosa, però viene da questa conoscenza più intima con queste persone che tu crei il, diciamo, la reazione, no? Viene da questo. Insomma, poi ognuno ha la sua storia personale che può essere più o meno sovrapponibile, vicina. A me, per esempio, colpiscono molto le storie di madri, perché sono madri, però insomma, quello dipende anche un po' uno da com'è, ecco, ovviamente. Sì, sì, infatti anch'io, io ho vissuto malissimo quella di Loreta Zizio, perché ho una figlia di 12 e una di quasi 15, che erano proprio in target rispetto alle figlie di Giovanna, perciò è stato abbastanza duro. Grazie mille, grazie mille Anna Bardazzi, ricorda il mio nome è Storie di Femminicidi, è il podcast, grazie ovviamente anche all'avvocata Roberta Sandri per la sua competenza e vi invito a seguirla anche, oltre ad Anna, seguite anche Avvocata di Famiglia, se non sbaglio, è il suo Instagram, perché la cosa su Bossetti a me mi ha molto aiutato a capire certe cose nella narrazione, perché le persone competenti hanno ovviamente, oltre ad essere competenti nel suo caso, hanno anche uno sguardo, insomma, più lucido rispetto ad altri. Sì, e poi l'avvocata Sandri non dice mai una parola in più, cioè non è che cavalca tutti i casi, quando dice qualcosa è perché andava detta. Sì, andava detta. Senti, la tua seconda scelta musicale si intitola Canzion Sin Miedo, mi racconti un po' perché l'hai scelta e da dove viene? Allora, questa l'ho scelta perché l'ho scoperta, è una canzone in spagnolo, latinoamericana, dedicata appunto alle donne uccise, vittime di femminicidio. L'ho scoperta guardando un documentario su una madre, la cui figlia era stata uccisa, di cui racconto nel secondo speciale, e che poi a sua volta è stata uccisa perché cercava giustizia per la figlia. Alla fine di questo documentario, che è Le tre morti di Marisela, l'ho trovata su Netflix, c'era questa canzone che mi ha veramente commossa molto, e quindi l'ascolto puntualmente, c'è anche un bellissimo video su YouTube. Perfetto, quindi avete anche un consiglio di visione, infatti lo volevo recuperare anch'io questo documentario. Al numero di WhatsApp arrivano dei grandi ringraziamenti, quindi per anni. Grazie mille Anna, a presto. Grazie a voi tantissimo, buona giornata, ciao. Buona giornata. Buona giornata.